dell'assembramento, non le va bene niente di questo governo, però le devo ricordare che sta facendo una campagna di vaccinazione che procede bene e sta gestendo il recovery plan che è fondamentale per la ripresa del paese. A parte il fatto che io credo che il benessere di una democrazia dipenda anche dall'esistenza di un'opposizione e ad oggi un'opposizione reale non c'è. C'è Giorgia Meloni con i fratelli d'Italia. Che è molto scaltra, a differenza di quell'ognoccolone di Salvini, fa un'opposizione più che altro elettorale che sostanziale, non la vedi mai attaccare Draghi o prendere delle posizioni nette come quelle che prendo io. Ma cosa c'è che non va nel governo Draghi? Lei ha citato banalmente la campagna vaccinale che dati alla mano era partita meglio durante l'ultimo governo Conte e poi ha citato il tema del recovery plan che è stata una conquista del governo Conte e staremo a vedere. Io sono molto preoccupato della gestione di quei denari in assenza di una vera e propria legge sul conflitto di interessi, in maniera particolare una legge che risolve i conflitti di interessi tra politica e finanza perché ritengo che, come dire, gli appetiti di una serie di poteri che poi sono stati gli stessi che hanno spinto la classe politica ad avallare il governo Draghi siano piuttosto elevati. Quindi lei pensa che Conte sia stato scoperto?